Ehi la turma, io sono Mattias e in questo video parliamo di Nuntucket Nuntucket è creato da Picaresque Studio e davvero è uscito un po' di tempo fa io l'ho giocato praticamente appena uscito ma colpevolmente non ho trovato un ritaglio di tempo necessario per poter parlare accuratamente di questo videogioco Nuntucket che tra l'altro è sviluppato totalmente da sviluppatori italiani è un piccolo team di sviluppo parte dalla storia di Moby Dick e del Capitano Akab per parlare della caccia alle balene di quel periodo, là dell'Ottocento Nuntucket è davvero molto bello nel senso che inserisce una buona componente di gameplay di caccia a balene o cetacei vari in cui dobbiamo gestire la nostra nave, scegliere che tipo di nave avere far migliorare il nostro equipaggio e il nostro equipaggiamento e anche delle abilità particolari di ogni nostro marinaio per poter affrontare al meglio la situazione sia di combattimento contro le balene che combattimento contro dei pirati eventuali che anche l'esplorazione regolare quindi il raccimolare delle provviste il comprare acqua, affondare degli accampamenti lungo la costa per potersi rifornire di volta in volta di acqua potabile e di provviste e anche per le riparazioni della nave sia come scafo che come vele eccetera eccetera Tutto questo viene accompagnato da una storia che è davvero interessante che parla della vendetta, di nuovo contro Moby Dick sempre lei è protagonista del nostro protagonista, di colui che guideremo noi e ha una sorta di trama sul mistico esoterico un po' esotico anche con delle vecchie credenze delle armi leggendarie, dei talismani gente rapita dai pirati non voglio troppo spoilerarvi però la trama è anche interessante e tiene bene come collante questo stile di gioco oltre a questo ci sono delle quest secondarie che potremmo attivare che sono tre se non ricordo male sono abbastanza interessanti sono opzionali e danno accesso a degli oggetti in più questo mi ha portato a giocare praticamente in untucket in una settimana perché davvero mi ha preso molto è uno stile di gioco molto frizzante molto dinamico che ti porta a restare attaccato per cercare di progredire sempre e stare sempre sul pezzo ed è molto bello l'ho davvero apprezzato anche graficamente anche come sonoro non ho niente da dire di negativo le uniche cose che mi hanno un po' fatto riflettere sono, beh, punto primo la rigiocabilità perché purtroppo essendo che non del tutto story driven ma abbastanza story driven non è rigiocabile io penso che non lo rigiocherò più perché una volta arrivata alla conclusione della trama non ho più tanto lo sprone per continuare a giocare che secondo me è un po' un peccato perché la dinamica di combattimento con le balene di raccolta di provviste poteva essere anche interessante infatti ho giocato comunque parecchio prima di arrivare alla fine della trama perché volevo arrivare al livello massimo di tutti gli oggetti prima di completare la trama perché sapevo che poi avendo completato la trama non mi sarei più divertito allo stesso modo come normalmente prima della conclusione della trama altro punto un pochettino negativo che direi è sul bilanciamento una questione di bilanciamento tra early game e mid game perché partiamo con una nave che ci permette di avere pochissimo personale e per sbloccare la nave successiva dobbiamo fare delle migliorie che ci richiedono un tipo particolare di personale quindi ciò fa sì che le prime persone che noi andiamo ad assumere dobbiamo per forza specializzarle per poter potenziare la nave per poterci sbloccare il grado successivo di navi di imbarcazioni perché altrimenti resteremo sempre bloccati con la nave e il fatto è che una volta sbloccato quel tipo di nave quindi avendo accesso a più slot avremo già la possibilità sia come fama che come soldi almeno da quello che è successo nel mio gameplay ma penso che sia abbastanza così perché ho visto altre persone parlare dello stesso discorso sarà giù a valanga in pratica perché potremo già assumere persone al massimo dell'esperienza di livello 10 che è il massimo e assegnarle a tutti i vari compiti della nave senza più necessità di far livellare pian piano tutto quindi sarà solo una questione di tempo andando a tutti i porti commissionando la progressione dopo della nave e la nostra gente sarà già a livello massimo e anche la questione di migliorare la nave sarà solo una questione di tempo neanche dato di soldi perché avendo delle persone molto forti avremo anche delle abilità forti quindi potremo combattere senza più problemi un altro discorso di equilibrio e bilanciamento diciamo che i mostri scalano non tanto con l'abilità del personaggio e del proprio equipaggio ma con il tempo che passa quindi se noi scorreremo troppo tempo come è capitato a me nella fase di early game senza arrivare a sbloccare le navi successive e il personaggio inizieremo ad essere sottolivellati rispetto ai mostri i mostri rispetto ai cetacei che andiamo a combattere per cercare di catturare e quindi questo sarà aumenterà la difficoltà fino a che appunto non avremo persone abbastanza abili per poter poi andare andare oltre e ultima cosa lo scontro finale con Moby Dick richiede un minimo di fortuna cioè nel senso che se non capita un determinato evento un determinato tiro di dado siamo per forza sconfitti il che potrebbe avere qualche senso per il fatto che Moby Dick comunque viene dipinto come un cetaceo super forte quasi come una divinità però fa sì che alla fine lo scontro finale sia solo gettato alla sorte per cui se abbiamo seguito la trama e abbiamo gli oggetti necessari dobbiamo aspettare comunque il tiro di dado giusto ma nonostante tutte queste adesso che ho accumulato queste negatività che vi ho buttato addosso devo dire che Nantucket è davvero un bel gioco quindi io lo consiglio consiglio a chi ce lo ha già nel backlog di giocarlo perché è davvero molto divertente è davvero ha un gameplay interessante che secondo me fa un buon mix con un gioco da tavola e un videogioco perché comunque la gestione passa attraverso delle carte dei lanci di dadi per cui richiama molto anche i giochi di tavola lo trovate su steam e su tutte le piattaforme principali io vi consiglio di giocarlo vi auguro una buona giornata e vi invito a lasciare un mi piace qua sotto e un commento per partecipare a questa discussione se avete giocato se pensate di giocare se pensate di comprare ciao a tutti e buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.